Perché Vistosi? Beh, Vistosi è un limpido esempio di azienda da sempre legata al design. Naturalmente tutti noi siamo innamorati del progetto di Angelo Mangiarotti, che ha fatto scuola, che ha creato un contesto per me fecondo per andare avanti a sviluppare progetti legati al modulo, legato all'evoluzione di una lampada che nasce da un elemento e poi si sviluppa in n forme perché questa è la forza del modulo. Quindi Vistosi sta scrivendo, ha scritto un passato glorioso nel mondo del design perché ha scritto delle storie di vetro nel campo di illuminazione che la rende veramente unica. Quindi va detto che per me è un onore quest'anno collaborare con Vistosi. È un approdo, lo ammetto, e mi è piaciuto sviluppare con loro l'idea di una lampada modulare. Perché naturalmente avendo alle spalle e guardando l'esempio di Mangiarotti certo è molto difficile da superare, ma mettersi in quella sequela è una possibilità, è una strada che obbligatoriamente io mi sento di interpretare perché da sempre amo il progetto dei moduli, il progetto modulare. Quando ho progettato RIM, questa lampada che è costruita da una sorta di telaio in tondino, saldato, con appoggiate delle lingue di vetro, ho pensato immediatamente a un oggetto dove il modulo poteva disegnare delle forme nello spazio, naturalmente coerenti con la sua geometria, ma delle forme variabili, perché il modulo dà questo tipo di libertà. La lampada Vistosi per me deve essere una lampada importante che racconta di sé anche quando è spenta, perché l'oggetto lampada, non dimentichiamocelo mai, qua viviamo in una situazione molto artificiale dove tutte le lampade sono accese, ma per la maggior parte della vita della lampada la lampada è spenta, quindi deve essere un oggetto scultorio, bello, una presenza forte, significativa e significante nell'ambiente domestico e nell'ambiente contra. Quindi la mia idea era di fare una scultura di vetro, però realizzata con un modulo. La difficoltà è stata realizzare questo modulo qua, ma le maestranze di Vistosi hanno superato ogni limite. Nonostante lo vediamo alle mie spalle, è un oggetto complesso, è molto semplice costruirla. La semplificazione del passaggio e della costruzione della lampada è una sorta di gioco, perché in questo castello di tondini è possibile appoggiare queste lingue di vetro, esattamente così, infilandole, e rimangono lì e si costruisce la lampada. Quindi il gioco è esattamente questo, bisogna partire dal basso e poi andare avanti a costruirla verso l'alto. Il gioco è fatto. Mi chiedo se sia giusto pensare a un ambiente specifico per una lampada. A me piace pensare che queste lampade qua devono trovare sempre motivo di combinarsi con qualsiasi tipo di arredo, con qualsiasi tipo di stile. Perché la lampada deve essere un trait d'union, deve essere una presenza che ci gratifica della sua luce, ma che sa parlare con il contesto in cui viene applicata, senza troppe restrizioni. Certo, questa è una lampada che me l'immagino in una situazione importante, ma non direi, mi piacerebbe che ci fosse questa sorta di fruibilità molto aperta, molto libera. In un progetto il primo passaggio è convincere della propria idea il tuo interlocutore. Ho incontrato Matteo Moretti, con lui ho scattato immediatamente un'empatia, gli ho mostrato una prima idea della lampada e da quel momento lì in poi potevano succedere due cose. O ci potevamo stringere la mano e ognuno percorreva la sua strada singolarmente, oppure si inestava immediatamente quel processo, quel virus positivo che fa crescere l'idea e fa crescere l'idea conformemente alle modalità di sviluppo dell'azienda. Il progetto non appartiene mai al progettista. Il progetto è un'intuizione al progettista che trova un nido fecondo, un nido accogliente all'interno di un'azienda. Con le maestranze dell'azienda si discute, si collabora, si superano insieme dei limiti perché il vetro è un materiale incredibile, imprevisto e bisogna per forza fidarsi all'esperienza altrui. Guai al progettista che impone la sua idea e non vuole sentire parlare di collaborazione o di mediazione. Non è più un progetto di design quello, è un sogno solitario di una persona che sarebbe stato meglio avesse fatto l'artista, ma il design si deve compromettere con l'azienda. È evidente che grazie a questo modulo è possibile pensare a una famiglia che si estenderà e si sta già estendendo, una plafoniera, una plica, perché il modulo ci dà questo tipo di libertà. È molto bello progettare moduli. Quindi il progetto di affinamento del modulo è complesso, ma una volta che siamo arrivati a stabilire la sua bontà e la sua qualità, perché grazie all'inclinazione dei tondini rimane perfettamente immobile, ma sono tutti oggetti semovibili e quindi possiamo costruire un mondo di lampade progettando delle scheletri interni che reggono questi moduli.